buonasera a tutti benvenuti a questo incontro di arte scienza molti di voi lo sanno quasi tutti voi lo sanno comunque vi ricordo che arte scienza è un'iniziativa del Politecnico nasce da un'idea dell'amico Federico Bucci e l'idea è di far incontrare alcuni di noi quindi dei docenti del Politecnico in teoria esperti di fatto il fatto che io sia esperto di enigmi stasera è molto discutibile però linea di principio degli esperti fra di noi dei docenti del Politecnico con dei colleghi di altre università delle persone eminenti del mondo della cultura quindi arte scienza intese in modo molto generico sono incontri con persone interessanti che hanno cose interessanti da dire con i quali noi fra virgolette ci confrontiamo questa sera il nostro ospite è Stefano Bartezzachi che è professore allo Yulm di semiotica ha un curriculum molto interessante molto lungo che non ho nessuna intenzione di leggere perché voglio farlo parlare e voglio che lui ci racconti tante cose interessanti che ha fatto e che ci possono insegnare qualcosa su questo mondo che vogliamo chiamare il mondo della sfinge però io inizierei Stefano se mi permetti da tuo padre perché il nome Bartezzachi è legato anche soltanto una persona che ha aperto una volta la settimana linguistica conosce questo nome quindi magari iniziamo da Piero sì sì no certo buonasera a tutti tra l'altro sono abituato il cognome è molto riconoscibile quindi sono abituato fin da piccolo come i miei fratelli a sentirmi dire Bartezzachi ma tu sei quel... ho elaborato col tempo una risposta sì perché mio padre era perché ormai non c'è più da molti anni il cruciverbista di punta della settimana enigmistica quello che faceva il cruciverba più difficile qualche rara volta mi invece è successo che ah Bartezzachi ma tu sei parente di e io stavo per e mi dicevano quello del Politecnico perché l'unico fratello di mio padre è mio zio Emilio è stato un professore emerito del Politecnico da un anno di ingegneria gestionale però e anche lui appunto qualche volta con questo cognome se ci fossimo chiamati Ferrari probabilmente pochi ce l'avrebbero chiesti ma tu sei quello delle auto, tu sei quello dello spumante e invece con questo cognome è già insomma un po' di enigma parte già da questo cognome sì mio padre è una vicenda molto interessante perché ha a che fare anche proprio con la storia del significato del cruciverba perché mio padre era nato nel 1933 da una famiglia dialettofona della provincia di Milano inurbata nel 1936 quando lui aveva tre anni ha fatto le prime scuole sotto la guerra è andato, è anche sfollato, è tornato al paese quando è tornato a Milano nel 1946 a 13 anni ha pubblicato il primo cruciverba sulla Domenica del Corriere e non si sa come, come mai abbia avuto questo un po' era nato per fare quello evidentemente un po' questo racconta molto secondo me dell'Italia di un'Italia di analfabetismo che però voleva riscattarsi tant'è vero appunto l'unico fratello di mio padre è nato nel 1948 quando mio padre era già cruciverbista è diventato appunto mio padre era perito chimico sarebbe poi diventato perito chimico come studi mio zio è laureato in ingegneria elettronica poi professore fino ad arrivare a prorettore del Politecnico è una piccola storia d'Italia una famiglia con delle peculiarità ma penso che sia stato molto più generale appunto questa spinta che forse oggi abbiamo perduto o forse abbiamo guadagnato una spinta verso l'analfabetismo ma questi sono i più pessimisti che lo dicono e l'enigmistica ha giocato molto perché non è affatto una passione per intellettuali che invece non amano perché è una sfida sull'intelligenza sulla cultura anche una cultura di tipo nozionistico per carità e gli intellettuali non amano mettersi in gioco su quello perché ovviamente ognuno poi ha le sue brave incertezze e invece è proprio il pubblico che magari che ha fatto delle scuole e ha preso delle nozioni che almeno in parte non usa perché appunto uno si chiede ma perché ho fatto tutta quella geografia poi risolve un cruciverba cioè un affluente sa come si chiama dice ecco vedi che non mi viene in mente ma dagli incroci lo recupero e c'è una funzione anche consolatoria di tenere in esercizio dei muscoli che ci si sono fatti durante l'apprendimento e che nella vita quotidiana non hanno molta occasione di venire usati pensiamo anche semplicemente al fatto proprio della scrittura la scrizione il fatto meccanico dello scrivere fino a quando non hanno inventato gli sms, le email e questo genere di cose se uno non faceva una professione che molte professioni non richiedevano la scrittura quindi uno scriveva poi gli auguri di Natale la cartolina ma non aveva occasione invece l'enigmistica dove il giornale ti dice adesso fino a qui mi hai letto da qui sei tu che scrivi e che scrivi su di me quindi io sono diciamo cresciuto in questo tipo di di milio poi mio padre era anche una persona con cui cioè poi non è che non si riuscisse non si riuscisse molto ad avere rapporti se non se non gli facevi un anagrammetto un palindromino e quindi il dialogo è iniziato molto quando le tecniche diciamo queste tecniche metalinguistiche si sono sviluppate in noi e io appunto dico sempre cioè il complesso di Oedipo va bene ma dato che Oedipo è il fondatore dell'enigmistica o così è il mito fondante dell'enigmistica quando uno ha il papà enigmista forse c'è un complesso di Oedipo al quadrato per se stesso è così insomma questo è il cognome riconoscibile in effetti hanno regalato sia me che i miei fratelli una così una strana deviazione del uno strano clinamen della nostra identità ho capito senti naturalmente l'enigmistica che è il motivo per cui molti secondo me stasera sono qua arriviamo rapidamente però visto che hai citato la scrittura il segno io farei un attimo un passaggio sulla tua formazione universitaria il tuo incontro con Berto Eco e ricorderei anche che cos'è la semiotica cosa vuol dire studiare la semiotica oggi prima di arrivare agli enigmi sì certo anche molto volentieri perché comunque non è che i discorsi siano proprio molto 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 diversi perché io ci ho provato a fare altro nella vita nel senso che io ho pubblicato Rebus a un'età diciamo abbastanza precoce insomma perché era il gioco che si faceva a casa ecco quindi era bello fare fare così ma mio padre ci ha sempre detto non pensate di farne un lavoro fate la vostra strada questo sarà sempre un bellissimo passatempo in realtà poi mio fratello maggiore Alessandro è attualmente il condirettore della storia ericmistica è lui l'autore è lui che ha mantenuto la traduzione diciamo del cognome il Bartezaghi adesso è lui e quando è a pagina 41 è difficile anche il suo cruciverba io faccio altro ma faccio un po' anche quello altrove in altro modo quindi appunto la sua profezia non si è avverata forse contro la sua volontà o contro il suo scetticismo questa cosa è successa il terzo fratello Paolo è comunque un giornalista carta stampata gazzetta dello sport quindi sport e passatempi siamo sempre in quell'area io però io volevo diventare io volevo studiare musica sostanzialmente poi ho capito che non sarei mai stato un musicista dal punto di vista così esecutivo bravo però uno può fare il musicologo il rifugio dei musicisti falliti e cioè sono fallito anche con musicologo non è che lo credo però insomma ho pensato e allora sono andato al Dams di Bologna dove invece ho avuto questo incontro sono caduto da cavallo incontrando Umberto Eco che era il 1981 Eco aveva appena scritto il nome della rosa cioè aveva pubblicato il nome della rosa nell'80 nell'81 ha vinto il premio strega e il Medici che è un premio molto importante francese si è capito che non era un best seller come gli altri insomma che era un fenomeno più complesso e tutti dicevano ah ma Eco non viene mai a lezione non è davvero niente lui che era nato ad Alessandria cultura sabauda faceva lezione da novembre a maggio tutti i giovedì venerdì e sabato mattina l'ho visto fare lezione con 39 di febbre e mi ricordo la prima lezione c'era una una lavagna forse anche più lunga di questa che sta sotto lo schermo e lui ha tirato una linea e la divisa in tanti segmenti e quello era il Medioevo e per due ore ha riempito la lavagna di tre con tre serie di eventi eventi storici eventi della storia storica eventi della storia intellettuale eventi della storia materiale le scoperte il timone e via dicendo e a me del Medioevo non era mai importato nulla avevo letto il Medioe della Rosa con divertimento però non era mai importato nulla a scuola l'avevo fatto malissimo e lì mi sono trovato a essere entusiasta del Medioevo Umberto Eco era una oltre tante qualità che gli sono riconosciute pubblicamente ne aveva una un po' meno così un po' meno celebre era un didatta formidabile cioè metteva era proprio un maestro poi come professore a mettere gli studenti in cattedra lasciamo stare però come metteva una voglia di studiare straordinaria uscivi da lì e andavi a comprare dei libri sottraendo ai magri proventi di uno studente erano le magre possibilità cioè un libro in più un panino in meno ma lo facevi proprio di voglia non soltanto io ecco c'erano aule piede strapiene e non era divismo perché del nome della rosa non gli fregava niente a nessuno era proprio che lui era proprio così e io speravo di fare delle cose magari tra musica e semiotica la semiotica è la scienza che studia i segni quelle cose sono più complicate di così però tutti i modi che l'uomo ha di significare di associare un'espressione un contenuto e quindi anche la musica anzi la musica è un ambito particolare perché ovviamente non è descrittiva c'è la musica descrittiva però però invece no non è andata così perché cognome riconoscibile ecco era molto appassionato di rebus e allora faceva quelle cose che cioè entrava in aula e ululava convocandomi perché non aveva non era riuscito a risolvere il rebus della settimana enigmistica di quella e quindi appunto su quello poi quasi naturalmente ho finito per fare una tesi sulla sulle sulle strutture semiotiche cioè su come la lingua in enigmistica muta funzioni pur continuando a essere se stessa diciamo così quindi allora li teniamo ancora un momento in sospeso sull'enigmistica visto che hai citato eco come autore eccetera parliamo un attimo del tuo rapporto con la letteratura beh insomma la letteratura a parte la passione c'è una bella cosa che sulla lettura che diceva Tullio De Mauro Tullio De Mauro diceva una volta la cultura di una singola individuo era funzione cioè c'era proprio un rapporto statistico era funzione della classe della famiglia di provenienza della classe sociale della famiglia di provenienza da invece metà degli anni sessanta inizio degli anni settanta e in poi e non è più così in effetti di ricchi ignoranti anzi di ricchi non ignoranti non ne conosco tantissimi e invece è una funzione della quantità di libri presenti nella casa in cui sei venuto al mondo no e la mia era una casa in cui c'erano abbastanza abbastanza libri ed erano a disposizione era proprio il passatempo ovviamente la lettura quindi poi ovviamente andando avanti ci si rende anche conto che ci sono delle linee di tangenza rispetto a delle cose che uno fa rispetto di studi semiotica un libro come il nome della rosa non soltanto è pieno di enigmi ma allude a tutta una serie di enigmi e uno incomincia prende come curiosità poi vede tra le cose insomma vede che non sono soltanto curiosità qui se arriviamo in tempo a parlarne tra le po' di slide che ho portato c'è anche un repus di un grande scrittore italiano e di cui appunto forse poi parleremo ed è finita che poi ho ho incominciato a accumulare del materiale delle cose dei lavori fatti corsi di laurea corsi di corsi universitario scusate conferenze studi studi vari prefazioni e ho finito proprio per raccogliere un bel po' di anni fa ormai un libro che si titola scrittori giocatori che senza virgole in mezzo no? per che si capisca qual è il sostantivo e qual è l'aggettivo su una serie di scrittori che a volte sono stati proprio anche degli enigmisti in proprio Vladimir Nabokov ha riempito i suoi libri di anagrammi di Lolita è pieno di anagrammi Ada è pieno di giochi di parole tra l'inglese e il russo che sono stati portati in italiano con una certa diciamo con molta bravura e con certe difficoltà ed è stato anche l'autore traduttore russo di Alice nel Paese della Benaviglia di Lewis Carroll e autore delle sostiene delle prime parole crociate in russo Krestolovici mi pare che si chiama che vuol dire proprio parole crociate che lui faceva già emigrato a Berlino per un giornale russo che si pubblicava a Berlino quindi appunto ogni tanto e poi quando il grande linguista Roman Jacobson ha studiato la funzione poetica del linguaggio quando è che la parola prende una funzione poetica il prima di analizzare una poesia per testare la sua teoria ha analizzato uno slogan elettorale uno slogan elettorale di Eisenhower che diceva Eisenhower aveva come nominiero Ike e la sua campagna per la rielezione al presidente è stata la prima campagna con quelle insomma slogan spillette e vedi dicendo che diceva I like Ike e questo è un esempio per Jacobson di uso della funzione poetica del linguaggio quindi tra la poesia e il gioco il gioco è frivolo la poesia è alta ma ci sono diciamo commerci molto interessanti allora a questo punto la domanda su Harry Potter te la devo fare perché lui è stato il traduttore dei volumi di Harry Potter no 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 aspetta revisore revisore quello è un caso allora va bene lì di giochi di enigmistica c'è c'è una c'è almeno un anagramma dentro che io ricordi ci sono poi delle cose delle alliterazioni c'è tutta una famiglia che è proprio quella dell'anagramma che tutti hanno il cognome che inizia con la stessa lettera e ci sono sì un po' un po' di ludismo verbale c'è però la storia lì è andata un po' diversamente perché io conosco gli editori italiani di Harry Potter e loro sapevano che io ero un appassionato lettore che avevo seguito la prima edizione e il problema di Harry Potter è che è un libro quando è uscito il primo libro nel 90 x 98 99 cosa del genere si sapeva che l'autrice ne avrebbe scritti degli altri però va della pesca era una completa sconosciuta chissà se avrebbe avuto successo oppure no insomma e quindi è stato tradotto come un libro con i criteri per cui si traducono i libri per ragazzi giustamente giustamente un po' di fretta ce l'hanno dentro proprio anche un po' di di errori e poi con il motivo per cui Topolino non si chiama Mickey Mouse quando traduci per per bambini per l'età più fai degli adattamenti poi le cose sono andate avanti e innanzitutto questa che è un genio è una persona di cui ho veramente una grande stima aveva già tutto in testa proprio ce ne si accorge ci sono dei dettagli del secondo volume che prendono senso nel sesto allora e in più c'è anche il fatto che i lettori del libro crescono assieme a Harry Potter quindi fin lì è come la recherche di Proust ma poi è ancora più complicata perché nella recherche di Proust il lettore non è che invecchia cioè invecchia perché ci avete tanto a leggerlo però non è che come lettore modello insomma e invece lì proprio io lo so perché ho una figlia che l'ha seguito e quasi miracolosamente con quel gap di differenza a quasi l'età di Harry Potter ma c'è qualche gap di differenza dato anche dalla traduzione quasi miracolosamente uno dice beh il libro che gli piaceva che le piaceva dieci anni non le piacerà più il quarto volume a quattordici no perché il quarto volume a quattordici è un libro devastante sull'adolescenza cupezze di lui che sbatte le porte che non parla con nessuno e poi ci sono gli amori frustrati quindi il lettore modello diciamo in semiotica di Harry Potter cresce con lui e non potevano assolutamente immaginarselo nessun traduttore consegna la traduzione senza aver letto la fine del libro no senza aver rivisto e lì era impossibile perché Harry Potter è un libro solo è un libro solo in sette grandi parti e quindi una volta che è finita la pubblicazione italiana delle sette parti gli editori hanno detto beh che facciamo dobbiamo fare il tascabile nel frattempo sono usciti i film però nel frattempo ci siamo anche accorti che quel Long Bottom che è un cognome non buffo cioè un po' strano però non per gli inglesi orecchi inglesi mi dicono che Neville Long Bottom l'avevano dato che nel primo volume era il ragazzino cresciuto dalla nonna orfano imbranato Cicciottello che sbaglia a fare tutte le pozioni l'avevano chiamato Neville Pachoc no? Pachocone un po' un po' pute caspita questo qui è l'eroe in realtà diventa forse addirittura il l'eletto era lui anziché Harry Potter che si chiami Pachoc a quel punto diventa veramente inadeguato e allora hanno pensato di cioè potevano o ristampiare i volumi così come erano e ciao o rifare la traduzione da capo che sarebbe costato un tantino io gli sono costato di meno cioè hanno pensato di fare un comitato per rivedere le traduzioni che erano state fatte e per aggiornarle col senno di poi insomma infatti poi di errori di traduzione veri e propri non è che ce ne fossero tanti qualcuno appunto nel primo volume che è stato fatto un po' più alla leggera evidentemente ma poi tutto il resto era proprio riuscire a togliere le incoerenze che erano nate perché si erano anche accorti che a un certo punto certe cose non funzionavano più ma sai dettagli il colore di una bandiera o cose del genere che sembravano totalmente avulsi privi di senso o quelle libertà che qualsiasi traduttore si prende poi a un certo punto erano dettagli che erano utili per far andare avanti proprio il plot principale appunto del quinto volume magari e questo è stato un esercizio molto molto appassionante che ho compiuto assieme a una c'era questo comitato ma abbiamo lavorato io e una redattrice che adesso è una dirigente della Salani che si chiama Viola Cagninelli ed è stato veramente una delle grandissime fortune che mi sono capitate nel mio lavoro io sono una persona fortunata sul lavoro e anche sull'amore non è che voglio fare cose mi è andata bene tutto sommato però nel lavoro mi è andata particolarmente bene almeno finora e tra le fortune questa sicuramente è stata una delle più delle maggiori delle più divertenti decisamente interessante che un libro è quasi un monumento sia per ragazzi perché uno pensa un autore che ha costruito un intero monumento tipo il signor degli anelli però pensando per i ragazzi veramente interessante ma ha più scritto qualcosa la signora Rowling si ha scritto dei gialli ha provato a scriverne uno senza firmandolo altrimenti è stato rifiutato a varie case di stringe è stato messo anonimamente e poi però adesso ha scritto una cosa teatrale cioè lei è lì è sempre lì a un certo punto ha fatto un sito che si chiama Pottermore in cui ha riversato i suoi schedari perché lei ha inventato mille altre creature perché poi non gli sono servite non le sono servite lei ha proprio arredato un mondo ha fatto tutto un mondo e poi no vabbè a livelli livelli ho avuto l'occasione di entrare proprio nel suo perché quando soltanto lavorandoci così vedi le cose quindi è stata una bella avventura mi sono anche pentito perché abbiamo poi lavorato abbastanza di fretta in realtà e il lavoro era tanto quindi siamo andati spediti mi sono pentito di non essermi fermato a prendere un po' di appunti in più perché era anche una bella storia da raccontare bene allora entriamo nella seconda parte di questa adesso ti sei un po' scaldato entriamo nella seconda parte che riguarderà l'enigmistica partendo dalla storia dell'enigmistica quello io questo che state vedendo qua lo conosco perché ho lavorato in Egitto è veramente molto molto antico perché siamo prima del 3000 attorno al 3000 31esimo secolo avanti Cristo e partiamo da qua per farci raccontare la storia affascinante dell'enigmistica beh insomma no sono proprio dei cenni mi ha chiesto di portare qualcosa questo è la cosa è la cosa numero uno capite che prima del 31esimo secolo non è che possiamo cioè ci saranno state chissà che belle cose però non è che possiamo tanto specularci questa è la tavoletta del faraone Narmer o del sovrano non so se insomma comunque faraone ed è interessante perché è considerato una delle prime è un dettaglio della tavoletta la tavoletta è molto più complessa è il dettaglio però più rilevante è considerato una delle prime anche raffigurazioni della figura ritratti e c'è anche il nome queste che vedete sopra quella cosa che sembra penzolare come se fosse una fiaccola appesa al burro in realtà sono due elementi quello sopra è un pesce siluro e quello è l'elemento in orizzontale l'elemento in verticale invece è uno scalpello il pesce siluro si chiamava nr e lo scalpello si chiamava mrr quindi nr mrr cioè è un praticamente un rebus era il nome del faraone era simboleggiato come in una in una in una in una sciarada da questi due elementi che si che si uniscono e questo è cioè serve un po' per dire che noi abbiamo allora tante cose ancora prima io insegno semiotica il problema di insegnare semiotica è che tutti noi abbiamo delle idee su come funziona la lingua ovviamente siamo dentro fin da prima di nascere e perché sentiamo dalla pancia sentiamo le persone parlare madre lingua perché poi la voce della madre la sentiamo anche diciamo la sentiamo anche proprio dall'interno e quindi ci formiamo delle idee e anche a scuola a scuola vengono date delle idee perché didatticamente a volte noi che insegniamo sappiamo che per chi ti vuole insegnare sa che delle volte per far passare dei contenuti bisogna anche fare delle semplificazioni quindi uno a scuola a scuola elementare c'è la classe il quaderno di scrittura il quaderno di disegno ma in realtà le cose non è che siano nate separate no le cose sono nate unite noi pensiamo c'erano quei rozzi egiziani poi c'è stata tutta una serie di cose la storia è andata un po' avanti poi un po' sono tornati indietro i barbari poi però arriviamo noi stiamo in mistica appunto i rebus guarda a quale livello di evoluzione siamo arrivati e no non è che nascono prima le cose semplici e poi si complicano non è che nascono prima i significati letterali e poi quelli metaforici e quelli simbolici è tutto assieme e infatti diciamo quello che noi consideriamo un gioco nella nostra educazione nella nostra ontogenesi individuale c'è chi impara a fare le aste non so più come funziona a scuola però impara le forme delle lettere maiuscole minuscole e poi a un certo punto uno impara a scrivere e poi qualcuno arriva anche a fare i rebus ma questi lo facevano da subito quindi l'aspetto di gioco è un aspetto artificiale che poi è venuto fuori ma all'inizio era anche un po' indistinguibile il gioco dal dal non gioco è per quello che ho portato questa questa cosa perché qui per esempio è come sono nate anche le lettere no? la A era la testa del 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 bue come nel giro glifico egizio c'è un'evoluzione nelle diverse ebraico finice alfa etrusca e romana che dal 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 pittogramma in cui la testa di bue voleva dire testa di bue all'ideogramma in cui invece la cosa è diventata dal figurativo si passa all'astratto fino al fatto che la testa di bue aveva un nome che cominciava con l'A quindi l'A esattamente come all'elementare uno ha i due quaderni ma poi magari la classe è decorata da delle tavole in cui c'è l'A e l'albero no? l'A nei diversi caratteri e l'albero la B e la barca perché sono anche modi per associare associare la la memoria e ma questo è un'altra cosa ancora questo nel seicento un alfabeto figurato a un certo punto noi oggi abbiamo ovviamente la tecnologia cioè tutto si evolve anche con i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione con con questi mezzi che abbiamo possiamo manipolare e riprodurre le immagini come non è mai stato possibile al mondo nel seicento già comunque c'era la stampa e ci si poteva incominciare a permettere di fare delle 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 decorazioni che ci dimostrano questo è un alfabeto figurato in cui le lettere sono date appunto dalle forme anatomiche dalle ci sono una volta si trovava nelle bancarelle un libro che si chiama La lettera all'alfabeto di André Massin un grandissimo tipografo francese è un libro meraviglioso perché era tutto un elenco una conteneva anche delle produzioni molto belle di alfabeti figurati cioè quello degli amanti come una specie di Kamasutra e poi però appunto alfabeti floreali e via dicendo perché appunto si è cominciato a giocare su quella unione tra il valore di figura e il valore di lettera ed è questo invece questi sono due stemmi è una fase intermedia e lo stemma più a sinistra è quello della famiglia Colonna mentre questo stemma a destra è della famiglia Anguissola e ci sono un manuale in cui dicono Colonna bene Anguissola no fate queste imprese si chiamavano questo tipo di stemmi fatele come Colonna e non come gli Anguissola e qual era la differenza? è che per la colonna c'è una colonna no? cioè proprio diciamo papale papale negli Anguissola c'è una serpe Anguissola cioè una sola serpe Anguiss vuol dire serpente e quindi Colonna è un gioco sul significato mentre Anguissola entra nella parola si rompe la parola e quindi non si può più far finta che non ci sia un artificio e è più chiaramente un gioco ed era considerato quindi meno elegante e sconsigliato perché invece quel tipo di arguzia richiedeva il concettismo si chiama anche la parte del manierismo del barocco che gioca appunto sui concetti ma un po' come gli intellettuali non vuole arrivare a smontare le parole perché non è sicuro in realtà di esserne davvero capace le Colonna erano più fortunati per farsi uno stemma Anguissola ma erano sportivi su questo erano sportivi certo la Colonna figurati si saranno vantati questo invece è un aneddoto sono andato a settembre mi hanno invitato a un festival di arte contemporanea che si tiene a Firenze nel Museo Marini il Museo Marini è bellissimo non so se voi se non lo conoscete una volta che è andata a Firenze se andate si è un museo nato negli anni Ottanta in cui hanno una delle prime hanno ristrutturato una chiesa il luogo è una chiesa sconsacrata ovviamente ed è una cosa fatta benissimo e c'era appunto il pubblico era come qua in una però questa era la navata io parlavo all'inizio della zona dell'altare e dato che non mi ero portato slide c'era questo simbolo proiettato su uno schermo io prima di intervenire devo parlare di Rebus sono andato a vedere sono andato a guardare bene la chiesa e poi ho detto vedete questo festival che si chiama Scripta in realtà questo è il logo originale con la S così potevate è già un Rebus perché bastava arretrare un po' lo schermo lo mettevate dove c'è la scala che scende che va nella Cripta cioè S Cripta ed era già un Rebus che appunto sono cose fatte con le parole dentro le parole la cosa interessante dei Rebus molto particolare dei Rebus è da sempre un rapporto che si riscontra con il sogno con la dimensione onirica il primo Rebus perché che noi conosciamo è descritto in un libro che si chiama Onirocritica vuol dire poi interpretazione dei sogni il libro dei sogni di Artemidoro che racconta di Alessandro Magno che è all'assedio della città di Tiro e però non si decide a sferrare l'assalto cinge d'assedio ma non cerca di non si decide alla conquista e un giorno si sveglia sempre i condottieri fanno un sogno prima dell'attacco e ha sognato un satiro che danza sul suo scudo allora si portava dietro l'oniromante l'indovino dei sogni fondamentale in battaglia e gli ha spiegato il sogno e lui dice beh è un sogno chiarissimo satiros tiro è tua il satiro che danza sul tuo scudo è la promessa che la città di Tiro che stiamo assediando sarà tua l'assalta e in effetti la conquista Artemidoro dice non interpretate i sogni così perché è rischioso in realtà un suo collega di alcuni insomma di parecchi secoli più tardi cioè Sigmund Freud nella sua interpretazione dei sogni dice che il sogno non è come dice che il sogno è un indovinello figurato e si sa anche che cosa Lyotard uno studioso si è preso la briga di andare a vedere i giornali dell'epoca di Freud i giornali viennesi e ha trovato il giornale a cui si riferiva Freud proprio per questa per il trovare la cripta dentro agli scripta e il sogno ci parla molto spesso ci parla in questo modo e c'è questo rebus che è un rebus vero e proprio l'illustrazione non è molto bella però è molto bella la storia con cui è nata questa illustrazione nel senso che il suo autore era uno scrittore che aveva l'abitudine privata non ha parlato quasi con nessuno però a un certo punto ha rilasciato un'intervista a questo proposito un'intervista rilasciata a patto che l'intervistatore non rivelasse il nome dello scrittore e questo intervistatore diceva c'è un mio lettore che è lettore della mia rubrica di giochi un lettore si chiamava Gian Paolo Dossena è un grande esperto di giochi che in realtà sono io che sono un lettore suo perché questo è un grande scrittore e non desidera essere nominato che però mi ha confidato che lui nelle sue notti di insonnia pensa dei rebus però non li sa disegnare e quindi li ha sempre tenuti in realtà da qualche anno parliamo negli anni 80 sono arrivati il primo person dell'84 ha messo in commercio il Commodore insomma quelle cose lì e si è comprato un computer con cui scrive i suoi libri scrive le sue poesie gioca a scacchi contro il computer e poi ha un programma che gli consente finalmente di disegnare i rebus e ha avuto il permesso di pubblicare sulla stampa di Torino questo questo rebus la cui rozzezze è dovuto al fatto che è stato fatto con uno dei primissimi programmi di di disegno stampato con una stampante ad aghi no dell'epoca e la soluzione di questo rebus è qualcuno si è arrivato no eh brava secondo me gelide è la parte difficile allora gelide mani trascurate perché G il signor G sta elidendo sta cancellando quindi elide M la lettera M e poi abbiamo a modi anatroccolo brutto anatroccolo un'ani trascura anitrascurate quindi gelide gelide m ani trascurate gelide mani trascurate e ora questo scrittore era Primo Levi possiamo immaginare le insonnie di Primo Levi tra l'altro il tema del sogno è un tema che ricorre molto nella letteratura leviana sono stati proprio studiati i sogni di 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 Levi lui cita anche quel pezzo un pezzo di Dante meraviglioso che Dante nel 33esimo del paradiso dice proprio la memoria di quello che ho visto mi sfugge come sfugge la memoria del sogno a chi a chi ha sogni e gli resta la passione impressa no? ti resta quando dici ho fatto un sogno un brutto sogno cosa succedeva? non mi ricordo però era brutto oppure un sogno bellissimo e e nelle sue sogne lui faceva Rebus conferma collaterale del del rapporto tra l'onirico e il il rebusistico e l'ha illustrato così e mi dispiace non averlo io conoscevo già il Rebus l'ho fatto conoscere a uno studioso di Levi che dopo un po' mi ha detto ma tu non ti sei mai accorto di qual è la M che viene Elisa qua lui poteva scegliere Milano e diventava Ilano invece ha scelto la parola campo e campo senza la M diventa capo e e vabbè insomma questo per dire che appunto si gioca ma ogni tanto gli elementi del gioco entrano in serie con no? con con gli altri elementi e vabbè questo per quanto riguarda i Rebus poi questo è il salto della Repotenetopera Rotas su cui non so che tu hai una no stavamo parlando prima ma questa è la tua serata quindi va beh questo l'ho portato perché nell'archeologia dei giochi enigmistici ovviamente c'è il c'è questo quadrato detto l'atercolo pompeiano perché è stato scoperto a Pompei quindi oppure quadrato magico anche e sono cinque parole di cinque lettere luna che quindi disposte così formano un quadrato cinque per cinque Sator Arepo Tenet Opera Rotas che si può leggere da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso normalmente ma si può leggere anche dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra diciamo sulle verticali in un cruciverba sempre le verticali Sator Arepo Tenet Opera Rotas poi in orizzontale partendo dall'angolo in basso a destra e procedendo da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto Sator Arepo Tenet Opera Rotas e ugualmente in verticale dalla S in basso a destra risalendo e procedendo da destra verso sinistra Sator Arepo Tenet Opera Rotas una cosa incredibile mi dice vabbè che cosa vuol dire allora Sator vuol dire seminatore il seminatore tiene le ruote in opera tiene le ruote al lavoro Tenet Opera Rotas Arepo no insomma non c'è Satura è il bifronte di Rotas Tenet è il bifronte di se stesso Arepo è il bifronte di opera poi qualcuno ha pensato che fosse il nome del seminatore il seminatore Arepone ma è un nome non attestato attestato invece c'è una radice celtica Arepennis che sarebbe un carro quindi però insomma è anche un po' difficile che Arepo sia il genitivo di Arepennis la ruota del carro e insomma il significato non è molto chiaro non è tutto chiaro non è tutto chiaro se abbia un significato perché io mi faccio bastare il fatto che qui tutti i conti tornino questa idea della scrittura che appunto non ha una direzione sola uno dice ah noi scriviamo in orizzontale mentre i giapponesi scrivono in verticale uno dice no aspetta un attimo perché poi c'è anche Bustro Fedico e c'è anche Bustro Fedico c'è stata anche l'interpretazione Bustro Fedica del Sator Arepo però appunto uno come poi quando ha finito la riga cosa fa? scende quindi c'è anche verticale e la gente allora incomincia a leggere quello come negli acrostici di cui i romani erano esperti no? Senato Popolusque e e quindi insomma c'è questo enigma che ovviamente come tutti gli enigmi dove si è nato come si è non si sa nulla si sa che a un certo punto ci sono piene testimonianze ovunque ed è stato riempito di sensi come al solito sensi misterici esoterici ne sono state dette di tutti i colori qui insomma però una parola diceva anche tu no? io sono d'accordo con te nel senso che l'interpretazione più logica è che ci sia un genio dell'enigmistica che ha inventato sta roba ha deciso che opera non ce l'aveva però che era perfetto e l'ha aggiunto poi quale fosse il motivo per esempio discutiamo prima con Stefano se potrebbe essere legato all'idea della città romana perché parla dell'aratro in qualche senso all'opera quindi la fondazione della città romana con il solco rituale della città e con la croce dell'impianto ortogonale questo era quello di cui discutevamo in ogni caso siamo molto lontani entrambi da qualunque interpretazione di tipo esoterico che è disponibile sul mercato c'è poi tutta l'idea io a questa cosa della città di mio non ero arrivato alla città romana però esistono le forme simboliche e qui abbiamo poi oltretutto un caso molto analogo che si è appunto presentato un paio di millenni dopo cioè nel 1913 quando a New York viene inventato il cruciverba il cruciverba che aveva avuto dei precursori viene inventato e si facevano anche dei quadrati tipo Satora Repo tenuto per la Rotas ma con molta più difficoltà perché ma il cruciverba si ritiene che l'invenzione del cruciverba c'è proprio un numero nel 21 dicembre del 1913 esce un giornale il New York World che contiene Sossisse in inverno Sossisse in inverno sì 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 per Natale con questo World Cross dopo tre o quattro puntate i tipografi sono sbagliati è diventato Cross World che è il nome tuttora del cruciverba e nasce a New York ed è chiaro che è in relazione con una certa morfologia della griglia che si ritrova nella letteratura contemporanea e nell'arte contemporanea il cubismo e anche proprio sia nella dimensione verticale che in quella orizzontale di Manhattan nei grattacieli che cominciano ad essere fatti perché appunto i primi grattacieli l'invenzione degli ascensori che rende possibili i grattacieli è di inizio di inizio novecento e c'è la griglia di Manhattan sapete che Manhattan è stata progettata proprio è stata tracciata con è nata prima la pianta di Manhattan che non la città vera e propria per cui appunto ci sono delle forme simboliche che transitano passano anche dai giochi e questo non c'è nulla di esoterico in sé esoterico nel riconoscere quindi appunto questo è un antenato che poi se uno stende tutta la parola tutta la frase satura repotenetopera rotas trova un palindromo cioè una frase che può come tene come la parola tenet e un palindromo io venendo a Politecnico ovviamente non potevo mancare di citare il e se solo ingegneri si scrivesse con la i uno potrebbe fare i re ingegneri però no non c'è non c'è la i tra la n e quindi non non funziona Primo Levi faceva anche dei palindromi e ha scritto un e questi li ha esposti cioè ha ammesso di farlo mentre dei rebus ha parlato soltanto sotto copertura e perché ha scritto un racconto lì invece estivo per il 15 agosto del 75 per il numero di ferragosto di tutto libri e un racconto in cui c'è un personaggio che fa palindromi riesce a fare palindromi sulle cose che gli stanno succedendo e lui si chiama Ettore va in una riunione nel caldo e a Roma e fa molto caldo lui vorrebbe essere invece a Sperlonga dove al mare c'è la sua fidanzata e invece deve stare in una scommissione quando entra in questa commissione ci sono delle donne con cui lui non va d'accordo e allora si mette da un'altra parte e fa il suo primo palindromo che era Ettore evitava le madame lavative e rotte che dimostra che appunto che lui li sapeva fare perché uno un romanziere può mettere un romanziere che non ha la patente può mettere un pilota nel suo in un suo romanzo perché sarà stato in taxi avrà visto la gente come faceva guidare non c'è bisogno di saperlo fare uno che fa il cuoco sì si può ma uno che mette un enigmista in scena e gli esempi o li prende dai manuali c'è uno scrittore che voleva mettere un un anagramma in un suo romanzo l'ha copiato da un da un manuale il manuale aveva un errore in quel in quel gioco e lui ha riprodotto il gioco con con l'errore sono cose che capitano invece primo levi sappiamo che primo levi era un un enigmista di sicuro anche se lui non è mai parlato esplicitamente lo sappiamo perché il tipo di giochi che lui ha messo nei suoi in quel racconto denunciano il fatto c'è sotto la mano di un enigmista poteva avere un amico enigmista che gli faceva i palindromi ma diciamo un'ipotesi poco economica no? Enzia non sono moltiplicanti a preter necessitate e da un palindromo se ne possono ricavare altri e nei congegni in genio ce n'è sì cioè i palindromi si possono riempire dal dal di dentro come i salami si può insaccare delle cose dal centro e diventano quindi quelli che si vantano di fare dei palindromi molto lunghi secondo me è un vanto sbagliato perché sono sintaticamente deludenti invece la bellezza del palindromo sta proprio nel fatto di stare in un verso in una frase che finisce lì da cui ci si accorge della sua palindromicità poi ci sono gli anagrammi e gli anagrammi proprio cinque minuti finali il palindromo è buffo perché i palindromi e i anagrammi le leggende dicono che siano nati nello stesso periodo che è il sottotomasio Filadelfo siamo ad Alessandria nel terzo secolo avanti Cristo dove c'era la biblioteca di Alessandria vi dicendo e c'era il poeta Licofrone che aveva che era un poeta di corte e aveva anagrammato i nomi del del re e della e della regina e Tolomeo Ptolemaios di apomelitos cioè di miele e la regina Arsinoe diventava eras ion cioè la violetta il fiore di era di giulone e quindi insomma l'anagramma è nato in maniera encomiastica verso il sovrano no? è proprio un anagramma di corte alla corte di Tommaso cioè in quel periodo lì di Tolomeo Filadelfo c'era anche invece Sotade Sotade era un poeta che invece era un poeta maledetto che era spacciato si diceva che avesse inventato l'omosessualità e cioè insomma la pornografia che fosse omosessuale e che ne parlasse nei suoi nei suoi versi e si diceva che avesse inventato il palindromo non conosciamo dei palindromi secondo me la situazione era un'altra però la leggenda dice così e dato che Arsinoe non era soltanto la moglie di Tommaso ma era anche la sorella Sotade aveva scritto una satira su questo fatto e Tolomeo Filadelfo non ha fatto che prenderlo metterlo in una botte e buttarlo a mare e così morì Sotade quindi ma queste due leggende che non sono io che le ho messe in relazione ma anche perché ho sempre notato che l'anagramma ha comunque una forma appunto encomiastica che sono anagrammi sacri e via dicendo mentre l'anagramma è buono mentre il palindromo questo c'è il diavolo parla la rovescia il palindromo appunto l'omisualità sono gli invertiti si dice la mano sinistra la mano del diavolo il palindromo ha sempre un rapporto con così appunto la sfera diabolica e il male e appunto e questo lo dimostra molto spesso negli anagrammi e gli anagrammi si attribuisce uno degli anagrammi più strepitosi della lingua italiana in italiano è Marco Antonio l'anagramma di Marco Antonio è antico romano è proprio definizione enciclopedica perfetto aptagramma cioè anagramma per cui c'è anche l'antigramma che è l'anagramma che dice il contrario funeral real fun funerale grande divertimento e invece nei gli anagrammi appunto ci sono delle interpretazioni esoteriche ovviamente che dicono ecco nell'anagramma c'è si parla anche di onomanzia io parlo anche di onomanzia ma ne parlo un po' come per gioco perché l'anagramma di Giulio Cesare non è antico romano però è un antico romano anche Giulio Cesare cioè Marco Antonio poi è un anagramma che funziona soltanto in italiano quindi non starei però appunto ci sono delle suggestioni come questo quando è nata l'informatica appunto ci ho pensato perché venivo qua è nato anche questo anagramma perché uno dice beh adesso con l'informatica tutto sarà più semplice semplificheremo tutto tutto il lavoro e via dicendo poi ci siamo accorti che qualche non per colpa degli informatici per carità ma di chi fa insomma fa andare queste cose chi le le adotta e cioè gli informatici mi stanno simpaticissimi però hanno un rapporto con la lingua italiana che io non approvo no? mi sta venendo la parola implementa adesso mi scuso siamo prima di cena vi sarà passato l'appetito però ci sono questi modi e comunque appunto ci siamo accorti che i sistemi informatici a volte la semplificazione in realtà complica no? perché una volta per ottenere un rimborso da un dipartimento uno portava le cose in una segreteria qualcuno che prendeva uno stipendio per fare quel lavoro adesso quello lì non prende più uno stipendio ma gli paghiamo il reddito di cittadinanza finché finché lavoriamo e e tocca a noi entrare no? e fare compilare dei moduli e vi dicendo e poi alla fine mandare un fax perché comunque non c'è come la carta non c'è non c'è niente e allora l'anagramma che è abbastanza duttile a un certo punto mi sono reso conto che questa anagramma che è un classico poteva avere una variante che a volte risulta più realistica che è questa no? e mi dispiace perché di accedere a una una un 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 anche francamente volgari ma sappiamo che a volte le macchine che non funzionano gli ingegni che non funzionano ci tirano fuori il peggio di noi io penso che possiamo ringraziare Stefano per questa escursus questa che era da queste cose così interessanti grazie e vi diamo appuntamento al prossimo appuntamento di arte e scienza grazie grazie ancora grazie a tutti